Lo conosco molto bene il Presidente, conosco la sua voglia di vincere sempre, la sua passione che ci mette qui nella Teramo Calcio, quindi è normale. Ci deve essere solo da sprono, prendere le sue parole solo da sprono e da aiuto per tutti noi, perché lui giustamente gli piace solo vincere. E deve essere così anche per noi, perché la nostra mentalità è sempre stata questa, una mentalità abbastanza vincente, derivata anche da lui, soprattutto da lui. Quindi dobbiamo cogliere il suo sfogo, le sue esternazioni in maniera positiva, solo per far bene e per vincere. Le mie condizioni ho iniziato a correcciare venerdì, quindi stiamo andando giorno per giorno, vediamo un pochino la condizione, i dolori fisici come sono. Valutiamo giorno per giorno insieme allo staff tecnico e medico. Purtroppo le squadre ci conoscono, ci conoscono dall'anno scorso, sanno come giochiamo, quindi adottano la tecnica migliore che è loro, che nel senso ci aspettano e magari ci ripartano. E noi, avendo quella voglia comunque di far gol, di sempre propositivi ad andare avanti, magari ci sbilanciamo anche troppo a volte. Però dobbiamo essere bravi a calarci in questa mentalità nuova e di lottare di più, nel senso di essere, come ho detto prima, più compatti, sacrificarci di più per il compagno, che magari è la cosa migliore secondo me. Magari in queste partite c'è stato un po' di meno, però la cosa migliore è uscirne con il gruppo, perché il singolo secondo me non è che ti può vincere tutte le partite.